In un'intervista rilasciata prima della messa in onda di Mina Settembre, prima stagione, quindi un anno e mezzo fa, Serena Rossi parlava di quanto fosse stata importante per lei questa occasione da parte della RAI di Tiziana Ristarco con Mina Settembre affinché lei potesse finalmente sentirsi attrice senza magari l'ausilio della musica, senza che dovesse presentarsi come l'attrice cantante che poi di fatto Serena Rossi è stata in tanti film ma anche come per esempio Amore e Malavita di Manetti Bros, Io Sono Mia, sempre produzione RAI, insomma bellissima voce che sicuramente l'ha aiutata molto ad entrare a far parte del mondo dello spettacolo e che è una delle sue più importanti qualità ma che in questo caso con Mina Settembre, che poi di fatto è un percorso, è un progetto che va avanti e andrà ancora avanti fortunatamente, si mette da parte perché Serena Rossi è attrice, io direi che attrice nel senso che come ho detto anche nella recensione della prima stagione appunto di Mina Settembre che ho rivisto l'altro giorno perché io rivedo spesso le mie cose quando passa il tempo, quando cresco anche per capire, per ricordare determinate sensazioni, determinate emozioni, anche pareri, punti di vista sul momento, Serena Rossi è un'attrice molto importante senza fare paragoni perché è inutile paragonarla con grandi attrici del passato, magari appunto napoletane, partenopee come lei, insomma è inutile fare paragoni, però sicuramente rappresenta un punto di riferimento molto importante per il cinema italiano, per il panorama artistico e culturale italiano, per il mondo della recitazione e per le donne ovviamente del cinema italiano. Un'attrice bravissima in poche parole che anche nella seconda stagione di Mina Settembre, sempre per la regia di Tiziana Aristarco, ha dato il meglio di se. Mina Settembre è sicuramente un personaggio scritto ovviamente da Maurizio De Giovanni perché la serie è ispirata ai suoi romanzi, sicuramente un personaggio che vive dentro di lei, un personaggio che lei è riuscita a cucirsi addosso fin da subito, fin dalla prima stagione e poi col passare del tempo, col passare delle puntate, in questo caso anche col passare delle stagioni, è sicuramente migliorata sempre di più. Una donna dolce, sensibile, Mina è ovviamente un assistente sociale, lo dico per chi non lo sapesse, magari chi si ritrova qui casualmente a vedere il mio video, ovviamente poi gli consiglio di recuperare sia la prima sia la seconda stagione, la seconda è andata in onda, l'ultima puntata della seconda è andata in onda qualche giorno fa. Un'assistente sociale, lavora nel suo consultorio, ma è una donna che riesce sempre a trovare il giusto connubio tra vita lavorativa e vita personale, attraverso diciamo un denominatore comune che è l'amore, la passione, il grande interesse, l'altruismo totale, quindi il sostegno nei confronti degli altri, nei confronti del prossimo. D'altronde un'assistente sociale quindi anche chiamata per lavoro a comportarsi in un certo modo, ma non è un'assistente sociale che lavora in maniera schematica, ridondante, pesante. Non a caso Mina è la preferita di tutti, perché? Perché le persone si rivolgono a lei proprio sapendo quanto è dolce, quanto è sensibile, quanto è comprensiva, quanto lavori con grande passione. Poi chiaramente la serie, la prima ma anche la seconda stagione, ci raccontano anche la vita privata di Mina, che va in linea spesso di pari passo anche con quella lavorativa, come detto, che vive dentro di lei al pari degli amori e dei sentimenti. La vita privata si intende non solo le storie d'amore, già nella prima stagione vedevamo Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno al suo fianco, ma sicuramente anche il rapporto con la famiglia, quindi la madre, interpretata dalla grandissima Marina Confallone, ma il ricordo del padre scomparso che vedevamo nella prima stagione, insomma nella prima stagione all'inizio ci viene spiegato tutto il rapporto di Mina con il padre, molto speciale, molto particolare, il rapporto con le migliori amiche, interpretate da Cristiane Filangeri, che è Irene e Valentina D'Agostino Titti, un rapporto speciale, tre amiche del cuore per intenderci, un fratello ritrovato dopo insomma, la riscoperta di tanti segreti tenuti nascosti per troppo tempo, insomma, come detto, tante cose scoperte nella prima stagione che do quasi per scontate se parlo della seconda, per questo, insomma, se non aveste visto né la prima né la seconda, oltre ad ascoltarmi, io cerco sempre di non fare spoiler, ma qualcosa potrebbe succedere visto che parlo direttamente della seconda, recuperatele entrambe sul RaiPlay, o se avete visto la prima ovviamente affrettatevi a recuperare la seconda, come sempre, gratuitamente su quella bellissima piattaforma che è RaiPlay. Beh, questa seconda stagione a livello magari sentimentale, ecco, parliamo di questo tema che è sicuramente importante, inizia con una novità per Mina, cioè la voglia da parte sua di tornare a credere nel suo matrimonio con il personaggio di Giorgio Pasotti che sembrava essere ormai tramontato, sembrava essere terminato. Il personaggio di Giorgio Pasotti, suo marito, le chiede di dare un'altra possibilità al loro matrimonio. È un tema interessante, ci tengo molto io, perché credo che tutti i grandi amori, forse sarò banale, un po' troppo smielato, però credo che tutti i grandi amori, in particolar modo se parliamo anche di matrimoni, meritino almeno una seconda possibilità. E quindi è giusto quello che fanno i due personaggi. Vedremo poi se le cose andranno a buon fine, oppure se questo matrimonio evidentemente sarà destinato a tramontare nuovamente. C'è però anche il personaggio di Domenico, Mimmo, interpretato come detto da Giuseppe Zeno, che è anche un collega nel consultorio di Mina, tengono insieme anche delle lezioni di educazione sessuale, con il quale Mina già nella prima stagione aveva avuto una storia d'amore. In questo caso Domenico ha un'altra donna, interpretata da Antonia Liscova, e vedremo però come si evolverà anche il rapporto di Mina con Domenico, in base anche alle volvesi del rapporto con il marito Pasotti, con il quale appunto decide fin dall'inizio di provare a ricominciare, credere ancora in questo grande amore, in questo matrimonio. Subentrerà anche il personaggio della zia, interpretato da Marisa Laurito, Scuola Proietti, attrice bravissima, caratterista di livello, come poi ci sono tanti caratteristi importanti, da Nando Paone, Scuola Salemme, Rosalia Porcaro, Massimo Vermiuller, insomma a livello di cast il livello è veramente alto. Devo fare i complimenti come sempre anche al casting della Rai, perché trattasi sempre di attori, protagonisti e coprotagonisti, minori, camei, partecipazioni, e soprattutto nella scelta dei caratteristi in una serie così anime core per intenderci, molto napoletana, molto partenopea, una dedica, un atto d'amore anche nei confronti di Napoli, insomma una scelta degli attori veramente ottima, minuziosa, non casuale per intenderci, perché questa è la Napoli di Pino Daniele, questa è la Napoli di Massimo Troisi, questa è la Napoli raccontata spesso dai fratelli Enrico e Carlo Vanzina nei loro film che spesso sono stati anche atti d'amore da parte di due romani nei confronti di Napoli, viene in mente, e lì Serena c'era, la sequenza finale con la quale poi di fatto Carlo Vanzina ci ha salutati indirettamente, perché poi se n'è andato un anno e mezzo dopo, senza, no un anno dopo scusate, precisamente un anno dopo, senza poter più fare film di caccia al tesoro, con l'inquadratura di Napoli, in sottofondo Napoli è proprio di Pino Daniele, insomma questa è Napoli, la Napoli bella, non la Napoli di Gomorra, la Napoli Black Crime che conosciamo anche grazie a certi prodotti importanti per intenderci, quindi sicuramente la scelta è ottima, e Marisa Lovoli tu che interpreta la zia, divertente, ironica, veramente simpatica, spiritosa, bravissima attrice, e attraverso questo personaggio poi ci sarà, ecco, verso la fine della seconda stagione, una situazione particolare che porterà anche della suspense, delle situazioni da risolvere, molto particolari nel rapporto di Mina con la madre, appunto interpretata da Marina Confalone, che forse nasconde qualche segreto, forse ha qualche segreto nascosto che evidentemente poi insomma porterà la serie anche in un, diciamo, su altri su altri temi, ma anche con altri toni, e diciamo che c'è un finale molto intrigante, sicuramente molto interessante, ecco io forse avrei voluto un finale un po' più di impatto, senza anticiparvi nulla, proprio in virtù di questa suspense che crescendo di puntata in puntata nel rapporto di Mina con la madre diventa sempre più intensa, come una sorta di climax per intenderci, quindi sempre di più, sempre di più, poi avrei voluto un finale un po' più ad effetto, e sicuramente la madre di Mina nasconde dei segreti che Mina non può sapere e che forse poi scoprirà come sempre con il suo intuito e con la sua solita voglia di stare vicino alle persone che ama, figuriamoci ovviamente alla madre, con la quale vedevamo già nella prima stagione, non ha un rapporto rose e fiori, però è un rapporto sicuramente speciale che cercherà di approfondire, di migliorare sempre quando ne avrà l'occasione. Insomma, una serie, una stagione anche questa molto carina, forse la prima mi era piaciuta un po' di più, le avevo dato di fatto 8, che è una valutazione molto importante, nonostante le prime puntate, ricordo, mi avessero lasciato un po' di scetticismo, ero molto ispirato, già il soggetto mi attraeva, però le prime puntate non mi avevano subito pienamente convinto, forse poi l'effetto sorpresa aveva fatto la differenza anche con un finale meraviglioso. Qui è un po' il discorso opposto, nel senso già sapevo quale fosse, diciamo, lo stile di questa serie, stagione che è iniziata bene, che mi è piaciuta subito, divertente, ma anche emozionante, molto riflessiva, e sul finale mi aspettavo un'intensità forse maggiore, ma è anche una questione soggettiva. Non ho riscontrato difetti effettivi, ottima sceneggiatura, buona la regia di Tiziana Aristarco, sempre nell'economia di una regia televisiva, si intende, bravi tutti gli attori, serena, meravigliosa, e Mina Settembre, personaggio che si fa amare sempre di più, come anche gli altri personaggi, ben scritti e ben interpretati dagli attori, dai rispettivi attori, quindi è anche una questione soggettiva, darei un 7,5 a questa stagione che mi ha convinto leggermente meno, ma qual è la notizia più bella? E lo dico perché c'era stato un po' di scetticismo durante la messa in onda della stagione, qualcuno aveva ipotizzato che potesse terminare qui, invece no, nel 2024, quindi ci toccherà aspettare due anni o comunque almeno un anno e mezzo, arriverà anche la terza stagione, quindi non è finita qui, grandi ascolti, grande successo, ma secondo me, come dico sempre, c'è proprio la base per andare avanti, perché se non c'è la base per andare avanti, l'allieva insegna, l'allieva a serie con la Mastronardi, guanciale, grande successo che poi dopo la terza stagione non andò avanti perché non c'erano le basi e giustamente non vollero forzare la mano, secondo me qui si può andare avanti e Mila Settembre 3, eventualmente 4, vedremo in un futuro prossimo o alla fine vicino, potrà riservarci comunque delle belle sorprese. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se l'avete vista Mila Settembre 2, altrimenti su Rai Prey la potete chiaramente recuperare. Ciao a tutti!